musica stavo per stampare questo oggetto è un oggetto abbastanza grosso vi faccio vedere quanto è grossa la stampante sono 40 in volume cilindrico per 70 in altezza ho impostato queste misure qua e questo è il volume della mia stampante dove posso stampare questo video lo faccio per farvi capire come approcciarvi al cliente ci sono delle cose che il cliente si aspetta che gli servono e altre cose che al cliente o alla persona non servono gli serviva una qualità estetica buona su questo lato mentre su questo lato qua anche se è brutto non fa niente quindi abbiamo impiegato più materiale l'abbiamo girato ci sarà tutto il supporto ma il cliente ha quello che vuole vedere e quello che vuole avere in mano è molto importante chiedergli prima alla persona che vi commissione una una cosa cioè le sue aspettative perché se non mi avesse detto niente e mi avesse contattato così a freddo e mi avesse detto fammi questo pezzo l'avrei girato così in piedi o addirittura completamente girato con sotto del supporto ancora meglio così c'è veramente poco supporto questo qua sarebbe stato il mio lato piatto però ho capito cosa il cliente vuole cosa si aspetta vuole un oggetto pienissimo 100% e poi molto più bello qua rispetto che sotto le dimensioni devono essere giuste e adesso vi faccio vedere che parametri imposto è una stampa difficile abbastanza lunga io lavoro a 0.3 in altezza 1.2 le pareti 1.2 sopra e sotto ma potrebbe essere anche 1 tanto questo è indifferente velocità di stampa 50 temperatura 195 ma perché è una stampante differente da quella che uso di solito comunque la temperatura vedetela voi la temperatura del piano va beh a 0 supporto è importantissimo per una stampa del genere perché perché non devo far fatica quando lo stacco e poi non deve pesare tanto il supporto deve essere ovunque e poi non può essere troppo pieno perché sennò ho avuto via troppo materiale questi qua sono i valori 60 di angolo di sporgenza 10 della montata di arrempimento ma probabilmente lo ridurrò ancora inclinerò anche l'oggetto per fare in modo che il supporto si stenda meglio distanza un po' distante per poterlo staccare però aderente al piano superiore così facendo non è attaccato alle pareti ma è attaccato solo alla parte bassa poi c'è un brim per tenerlo aderente ma tanto va a finire sul supporto mi sembra controlliamo sempre il primo strato il primo strato controlliamo che cosa aderisce che cosa non aderisce in questo caso aderisce tutto un po' bene poi diametro filo 1.75 flusso 100% ugello 0.4 velocità di orientazione 40 distanza 3.5 perché ho un semidiretto è una delta quindi è un diretto con un piccolo tubettino di btfa che lo distanzia spessore del livello iniziale come il primo 0.3 abbondante 0 cut off niente tagli sull'oggetto vedete perché magari avrei potuto appiattirlo meglio ma in questo caso è già bene appiattito velocità di attraversamento 90 ma posso tirare anche su a 120 per le stampanti che utilizzo e velocità del primo livello sempre lenta poi le ventole al 50% vabbè dipende dalla stampante che utilizzate comunque se non vi raffreddano l'ugello alzatela con il PLA poi come plug in 0 potremmo mettere una pausa ma non serve il cambio colore e gcode fatto per una stampa lunga 37 ore e pesante 735 grammi alla prossima per la prima metà per la prima